Atmosfere d'altri tempi al Bosco di Capodimonte, dove l'edizione 2019 del luglio musicale si è aperta ieri sera con l'atteso concerto sinfonico ideato dal maestro Roberto De Simone. La prima esecuzione italiana della serenata numero 8 in re maggiore per quattro orchestre di Mozart e Salvatore Di Giacomo per mezzo soprano, coro femminile e tre fisarmoniche. È una prima esecuzione assoluta di Capodimonte. Due esecuzioni sul Belvedere e poi chiusura nel cortile monumentale del museo. Attirati dall'interessante programma, numerosi napoletani hanno affollato i prati all'esterno del museo di Capodimonte per assistere all'evento a cui ha partecipato lo stesso De Simone, seduto in prima fila al fianco del direttore del museo Silvan Belanger e della direttrice artistica Elsa Evangelista. Iniziare la quarta edizione del luglio musicale con Roberto di Simone era ovviamente la scelta del successo. Sono concerti di un altissimo livello musicale, culturale, poetico, storico. È un concerto che copra proprio la storia della musica napoletana dal settecento fino alla musica contemporanea. Aspettavamo questa grande risposta di pubblico, d'altronde il messo De Simone è veramente l'anima di Napoli ed è l'ultimo veramente De Simone della grande cultura musicale napoletana. A dirigere l'orchestra Alessandro De Simone, nipote del maestro a cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha riconosciuto l'onorificenza di Gran Croce che consiste in una pergamena e una spilla consegnate a Roberto di Simone dal delegato del Quirinale Alessandro Pagliara.